Bernardeschi taglia centralmente, pronto a sinistro! Perin con i piedi. Cerca la giocata, fermato da Bentancura, allora Cristiano Ronaldo, in seguito da Scione, Cristiano! Perin in calcio d'angolo, ha trovato la porta, Cristiano Ronaldo... Danilo allarga per Dybala, uno contro uno, Dybala prova ad andare via, contenuto in qualche modo da Romero Ghiglione, poi arriva Cristiano, cerca la conclusione! Perin, ancora una volta ha trovato la porta, bravo Perin! Quadrato, arriva il cross per Rabiot, Perin! Pallone per Cristiano Ronaldo! Perin mette una mano e salva il Genoa! Dybala, in mezzo a tre, Dybala, ancora Dybala, sinistra, Paolo! Dybala! Sta diventando sempre più decisivo Dybala, la sblocca! Uno a zero! Quadrato! Vai a saltare Rabiot, anticipato da Bernardeschi, che non trova di un soffio la porta! Pjanic, per CR7, prova ad accelerare Ronaldo, c'è Dybala lì accanto, uno contro uno, di Ronaldo... Destro! Cristiano! Ronaldo, che gollasso! Dybala! Douglas Costa! Cerca il tiro a giro! Bella, 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 subito! Douglas Costa! Gollasso! 3 a zero! Biraschi riesce a saltare l'attacco di Ramsey, arriva al traversone, bucato da tutti... Pinamonti! Andrea! Pinamonti! 3 a uno! Attenzione Pinamonti! Deve arrivare Schnezni su un retropassaggio pericolosissimo. L'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia, Juventus batte Genoa 3 a 1...